La parola a Federico Scarpa, Vicepresidente Associazione Fuori Centro. Buongiorno, grazie. Allora, anch'io non parlerò dell'Associazione, anche se devo comunque dire che l'Associazione orbita all'intorno al campo della salute mentale e fa parte di una rete di associazioni che si sono costituite attorno al Dipartimento di Salute Mentale, e quindi opera per la salute mentale e l'inclusione sociale. Faccio un ragionamento sul terzo settore in generale, in quanto noi eravamo inizialmente una piccola associazione, poi ci siamo sviluppati fino a diventare una piccola impresa sociale che gestisce anche un campo di calcio e dà lavoro anche a persone in borsa lavoro, quindi dà possibilità di recupero e riabilitazione di persone che hanno avuto dei momenti di difficoltà nella loro vita. Noi, in quanto associazione, che fa parte appunto del privato sociale e del terzo settore, mi sento di dire l'importanza di realtà, come la nostra, ma in realtà come le persone, come le associazioni, le realtà che sono presenti a questa tavola, di quanto sono importanti nel tenere in piedi e di tenere unito un tessuto sociale che allo stato attuale, in questi giorni, sta sempre più sfaldandosi e sempre più dividendosi per via della crisi, che non è solo una crisi economica, ma è una crisi anche di solidarietà sostanzialmente. E' una delle prime problematiche che noi ci troviamo ad affrontare, è proprio questa crisi di solidarietà che allontana le persone, alla società civile, a noi che siamo in prima linea e ci rende un po' più isolati rispetto a quanto non era una volta. Mi immagino, idealmente, è ovvio che in un momento di crisi economica noi ci immaginiamo la necessità di avere qualche risorsa in più, qualche risorsa economica in più per poter crescere e svilupparci. Noi come associazione siamo nate quasi dal nulla e ci siamo sviluppati, però manca il know-how, manca la partecipazione di giovani e la possibilità di attrarre giovani sempre di più, attrarre sempre più intelligenze verso il terzo settore, verso realtà che operano nel sociale, richiedono comunque degli sforzi anche economici per poter attrarre intelligenze che se no in questo mondo sempre più individualista tendono ad aver voglia più di soldi e popolarità che non di aiutare il prossimo. Marco Braida prima diceva nella sua bella relazione che c'è un grande squilibrio tra risorse sanitarie e risorse che vengono destinate al sociale sostanzialmente. Quindi se si riuscisse a riequilibrare un pochettino questa bilancia e soprattutto se si desse maggiore attenzione a progetti di qualità e verifica della sostenibilità anche dei progetti che vengono proposti forse riusciremo a migliorare la qualità anche del terzo settore perché se no anche noi facendo un po' di autocritica se no stiamo a parlare solo di noi stessi, di quanto siamo bravi eccetera eccetera però questo non può nascere senza un confronto anche con l'istituzione che giustamente chiede sempre maggiore professionalità, maggiore presenza e via dicendo. Concludo dicendo sì, legandomi a quanto è stato sottolineato sul problema della cronicità, dell'obesità legata anche agli stili di vita malsani che si stanno diffondendo nella nostra società globalizzata che effettivamente il lavoro sul territorio, la presenza di associazioni come le nostre, di realtà come le nostre fanno prevenzione, quindi potenziarle significherebbe contribuire a ridurre e a migliorare gli stili di vita e a ridurre anche queste cronicità e queste malattie che stanno aumentando. Grazie. Grazie mille.